Ciao a tutti, io sono Arianna Badalamenti e abito in Sicilia, sono della Sicilia stessa. Oggi abbiamo l'occasione, la straordinaria occasione di poter stare al baio di pianeta e poter provare una straordinaria macchina, si tratta della Bobcat E88. È una macchina dal design straordinario e non solo, ha una linea che veramente fa tanta invidia alle altre. Io sono un assistente meccanico da un po' di anni e fin da piccola ho avuto l'occasione di vedere le macchine Bobcat. Diciamo che mio padre, essendo un assistente Bobcat da anni, ha sempre avuto questa passione. E l'ha trasmessa anche a me, tanto che fin da piccola mi portava sempre i modellini Bobcat come per esempio il 334. E io li ho tutti sulla mensola e ogni volta che li guardo penso semplicemente che sono bellissimi. E adesso la linea è cambiata ed è ancora migliore. Ma non parliamo solo dell'estetica, voglio parlare anche della macchina in sé per sé. Perché è sensibile, ho avuto l'occasione di provarla. È molto sensibile, è comoda, è stabile. La stabilità è quella che al giorno d'oggi serve molto in cantiere. E credo che questa macchina la possa dare al 100%. La comodità la trovi subito appena ti siedi. Perché nel movimento dei joystick, nella posizione in sé per sé, ti dà quella serenità che dici, ok, posso lavorare tranquillamente. Adesso vi faccio anche vedere la macchina quanto è straordinaria anche sotto il livello della meccanica. Perché anche per noi meccanici a volte è un problema, però con questa adesso sarà fantastico. Perché potremmo avere la possibilità di fare una manutenzione con veramente poco tempo e tanta facilità. Perché, come potete vedere, tutti i filtri, tutta la componentistica per la manutenzione è a vostra portata di mano. Tra i filtri idraulici, quello del gasolio e non solo, quello dell'olio motore. È tutto a vostra disposizione. Ciao a tutti, sono Luciano, lavoro alla Baglio di Pianetto da circa 18 anni. Io in un'azienda mi occupo di imbottigliamento. Oltre a quello faccio pure dei lavori con il movimento terra. In un'azienda abbiamo un bobcat da circa due anni che è la E55, ma è molto più piccolino di questo che ho avuto oggi. il piacere di provarla facendo un lavoretto qui in azienda, una pulitura di un canale. Mi sono trovato benissimo, la macchina è stabilissima, i movimenti con i joystick sono perfetti. È molto bella, all'interno è ampia, hai molta visualità ed è una macchina spettacolare da parte mia. Grazie a tutti.